Stavo guardando un film del 2001 intitolato Doors, un film di fantascienza thriller poco conosciuto, non è nemmeno stato doppiato in italiano, ma ve ne parlo perché ho notato una cosa molto strana che vedremo tra un attimo. Ho scoperto questo film esplorando la filmografia del regista Jeff Desom, che ha firmato il più blasonato e pluripremiato film Everything Everywhere All At Once. E in questo particolare film che vedremo oggi, Doors, racconta la storia della comparsa sulla terra di porte aliene e di un gruppo di umani che cerca in qualche modo di capire cosa sta succedendo, il motivo per cui sono apparsi e come comunicare con eventuali civiltà aliene. Devo dire che Doors non mi ha colpito particolarmente, diciamo, se non per la scenografia e soprattutto per un oggetto utilizzato per cercare di stabilire il contatto con le entità misteriose. In una scena, a un certo punto, uno dei protagonisti indossa delle cuffie e inizia a muovere dei potenziometri su uno strumento dell'aspetto futuristico. E quell'oggetto esiste realmente ed è uno strumento musicale, in particolare un sintetizzatore modulare. Ora, non so se lo strumento è stato scelto solo per la sua estetica, che sembra effettivamente essere uno strumento super complicato in grado di captare segnali anomali, o per qualche valenza simbolica o metaforica legata alla musica come possibile linguaggio universale per comunicare con civiltà diverse dalla nostra. Ma, al di là di questioni filosofiche, oggi ne approfitterei per spiegarvi come funziona questo strumento musicale dal momento che anch'io ne utilizzo uno per comporre musica e creare suoni. Ed eccoci qui con uno strumento molto simile a quello che vedete nella scena del film. E per chi non avesse mai sentito parlare, immaginatelo come uno strumento musicale composto da mattoni Lego, che potete assembrare come desiderate, seguendo delle regole non poi così rigide. Ogni mattoncino, che d'ora in poi chiameremo modulo, ha una o più funzionalità e può dialogare con gli altri attraverso dei cavi. Possiamo suddividere i moduli in, se vogliamo, cinque macro-categorie, dalle quali potete attingere per creare il vostro strumento modulare da utilizzare da solo o da combinare con qualsiasi altro strumento suoniate. La prima categoria di moduli è chiamata oscillatori. Se immaginassimo la musica come una scultura, questi moduli forniscono la materia prima, come il marmola, il terracotto o il legno. Da questi moduli è possibile estrarre suoni fondamentali, suoni di base, grezzi, che possono essere sia di matrice analogica che digitale. La seconda macro-categoria sono i moduli di modulazione. Seguendo ancora la metafora della scultura, è come attivare delle forze che agiscono sul materiale scelto, modificandolo secondo modi e quantità decise da noi. In termini musicali, questa tipologia di moduli ci consente di lavorare sulla tonalità, il volume o persino cambiare la tipologia di onda sonora scelta dell'oscillatore. La terza categoria sono i moduli di filtraggio. Questi moduli ci permettono di iniziare a scolpire il suono, tagliando alcune parti o accentuandone altre. Ed è per questo che troviamo tantissimi produttori che ad esempio producono filtri o, come abbiamo visto prima, oscillatori, ognuno con un flavor o con un gusto diverso. La quarta categoria sono i moduli di inviluppo. Continuando con la metafora della scultura, questo modulo ci consente di lavorare sul tempo, cambiando la forma della scultura in alcuni momenti. Nel suono ciò avviene ad esempio con il cosiddetto EDSR, che sta per Attack, Decay, Sustain e Release, che consente di scolpire la forma temporale di un suono. Arriviamo così a un'altra grande macro-categoria, i moduli effetti. E qui troviamo il tripudio della creatività, un po' come se fosse la tavolozza di colori che noi possiamo assegnare alla nostra scultura o il luogo in cui esporla. I moduli effetti, come il riverbero o il delay, sono anche forse i più versatili e utilizzati non solo dai musicisti elettronici, ma anche da, ad esempio, chitarristi, flautisti o cantanti che processano i loro segnali, la loro voce, facendolo passare attraverso una catena di moduli, ognuno con un effetto diverso. E come portiamo la voce all'interno di un sistema di questo tipo? E proprio con questo prendere un segnale e portarlo all'interno del nostro sistema modulare, arriviamo forse alla parte più interessante e creativa, non tanto del sintetizzatore modulare, ma dell'approccio modulare in sé. E qui porterai l'ultima macro-categoria, i moduli che potremmo definire di servizio. Qui abbiamo molti moduli che consentono di interfacciare altri strumenti, collegare i microfoni, registrare, ad esempio, su cassetta, riprodurre file audio, o anche visualizzare la forma d'onda che stiamo utilizzando. In questa categoria ci sono tantissimi blocchetti che permettono di valorizzare la propria immaginazione. Ecco, spero di avervi spiegato in modo comprensibile come funziona uno strumento modulare, non entrando nel tecnico, ma portando quello che è il fascino e, se vogliamo, le possibilità di un sistema modulare, che permette di esplorare il suono non solo utilizzando strumenti preassemblati da un produttore, ma anche cimentandoci nella creazione dello strumento stesso, creando delle architetture che più si sposano con le nostre finalità, la nostra creatività e i nostri obiettivi. Ecco, spero che un giorno qualcuno inventi un modulo per comunicare con gli alieni. A parte gli scherzi, se avete altre domande, curiosità o riflessioni, riportateli qui nei commenti.